Cesvi negli ultimi giorni è occupato nella distribuzione di acqua per circa 15.000 persone nella striscia di Gaza. L'attività va avanti ormai da qualche settimana. L'acqua è il bene principale, è anche la risorsa che manca di più dentro la striscia di Gaza per gli sfollati che ormai si stanno spostando da una zona all'altra. In particolare Cesvi è attivo con il suo team in diversi settori dentro la striscia, in particolare a Gaza City e a Can Yunis. E' occupato nella distribuzione di acqua per 15.000 persone. Nel frattempo finalmente si sono sbloccati tre camion che stanno portando dentro cibo per 2.000 famiglie. E questi tre camion sono rimasti bloccati per oltre un mese nel valico che entra a Gaza. E proprio ieri, notizia recentissima, le autorità israeliane hanno dato luce verde per far entrare anche questi tre camion che verranno distribuiti nei prossimi giorni, nelle prossime ore. Il team di Cesvi sta lavorando in condizioni disperate perché purtroppo il conflitto non cessa e il team stesso è costretto a spostarsi da una zona all'altra proprio per cercare dei siti e delle zone più sicure.